allora qui abbiamo il reparto dei primer questi sono i primer poi ci sono dei sieri e dei spray fissanti e alcune creme adesso prenderò i prodotti e li metterò sul tavolo e deciderò quale tenere e quale regalare facciamo prima primer poi sieri e poi fissanti va bene iniziamo allora ho messo qui tutti i miei primer perché devo fare una cernita non toglierò tantissime cose vi spiego nel frattempo il perché io di solito non apro tantissimi primer o tantissimi fondotinta o tantissimi correttori come avete notato perché preferisco utilizzarli proprio passare il tempo nel utilizzare alcuni prodotti e poi smaltire nel frattempo allora vi faccio vedere alcuni che io posseggo qui proprio sul tavolo perché li ho presi direttamente dal cassetto così mi viene anche meglio farveli vedere tutti allora iniziamo con questo della nivea questo qui è un balsamo dopo barba ma viene utilizzato su tantissime da tantissime scusate da tantissime mega partes come primer viso perché ha un effetto levigante sul viso oltre ad avere un effetto abbastanza fresco mi piace tantissimo io cosa faccio l'ho comprato questo mi sbaglio è la terza volta che lo acquisto quando vedo che non lo utilizzo lo scendo e lo do ai ragazzi che lo utilizzano per la barba questo qui essendo che già l'ho utilizzato un bel po di volte quindi è la terza volta che lo acquisto lo ridò ai ragazzi perché do la possibilità ad altri primer di essere utilizzati invece se ce l'ho qui nella postazione cerco di smaltirlo quindi questo lo scendo e lo do ai miei figli poi ci sono dei primer che non sono stati aperti perché io preferisco aprirli mano a mano che li devo utilizzare li faccio così proprio per essere agevolata anche nel non far scadere determinati prodotti iniziamo con primer che non sono mai stati aperti come questo di fenty beauty questo qui è il soft matte io non mi ricordo quando l'ho preso sinceramente questo se lo aprirò lo aprirò nel periodo estivo perché essendo un soft matte avendo una pelle mista che dà sul secco non lo posso utilizzare in inverno quindi lo rimando a primavera estate quindi essendo che è chiuso lo lascio chiuso quindi lo tengo poi questo è un primer di Yves Rocher questo io l'ho aperto mi è piaciuto tantissimo e quindi lo tengo il suo gemellino perché per me sono scusate sono fuori fuoco il suo gemellino è questo qui di Catrice mi trovo bene con questo di Catrice l'ho preso con i consigli di Giulia Cova mi è piaciuto tantissimo l'ho utilizzato e quindi lo tengo entrambi tengo entrambi un altro è questo qui di Essence che ovviamente è stato il mio preferito l'ho utilizzato questa è la seconda l'ho utilizzato per due volte ce n'è pochissimo lo metterò nel prodotto scusate lo metterò nel progetto smaltimento prodotti perché mi sono trovata bene però ovviamente lo devo finire perché ha un bel po' che ce l'ho quindi lo tengo quindi è un prodotto da smaltire un altro è un primer studio mattificante più minimizer primer che è sempre di Essence questo qui è vediamo cosa dice per base vabbè medificata argilia nera comunque è un primer mattificante mattificante avendo una pelle mista al secco credete bene che non è il mio ideale l'ho aperto l'ho sbocciato ma non l'ho mai utilizzato quindi questo qui lo regalo non lo butto perché è ancora ottimo un altro primer questo è un Shine Killer di NYX anche questo è diciamo per pelle mista automaticamente viene utilizzato di più per come dire per pelle più grassa che secca questo è un killer per quanto riguarda dicono no? il Shiner quindi Shine quindi per la lucidità del viso e mattifica tantissimo io non l'ho mai aperto però ho visto varie recensioni questi sono stati acquisti fatti in precedenza quando ancora di makeup non ne capivo tantissimo non ho che adesso sia un'esperta ma conoscendo adesso bene la mia pelle so cosa mi piace cosa non mi piace cosa è adatta alla mia pelle vi dico anche che un paio d'anni fa avevo la pelle mista sì con alcune zone secche ma era mista al grasso perché avevo tantissime impurità tantissimi brufoli tantissimi di tutto e di più da quando ho avuto di nuovo per la seconda volta la trombosi alla gamba da quella volta in poi la mia pelle è cambiata è diventata mista ma tendenzialmente va sul secco totale e automaticamente questo primer che avevo acquistato con dei sconti eccetera eccetera non posso utilizzarlo ovviamente quindi lo regalo poi primer che ancora è chiuso e sigillato perché ho comprato anche il fondotinta quindi li utilizzerò assieme questo qui di Kat Von D o Kavy Beauty come lo volete chiamare quindi questo lo metto di lato nella mia cassettiera un altro che non ho ancora aperto è questo qui di Essence l'avete visto ultimamente perché l'ho comprato per diciamo recente è un jelly primer anche questo dicono che assomigli a quello di dove è messo lì di Milk posso anche mettere quello di Milk assieme a questo però io ho un reparto delle mini size quindi è messo lì nel reparto mini size infatti anche come primer ho quelli di Rare Beauty tutte le mini size le mini size io non le faccio vedere perché le mini size io le utilizzo se vado in viaggio quindi non le utilizzo tutti i giorni questo è il make up che utilizzo tutti i giorni quindi li lascio qui capite bene che ne ho altri messi in altri posti quindi comunque questo lo tengo un altro che non è stato utilizzato è quello di Colourpop questo l'ho acquistato ma non ho avuto la possibilità di utilizzarlo perché non mi sono più truccata avendo avuto dei problemi di salute avendo avuto diciamo caldo eccetera eccetera non ho avuto la possibilità di utilizzarlo questo è un primer no filter lo devo provare e vedere se mi piace se non mi piace poi lo metto su Vinted ricordatevi sempre che Vinted trovate tutti i prodotti che io non utilizzo questo è un altro primer l'ho utilizzato i primi giorni con il fondotinta poi l'ho accantonato ovviamente in base al prezzo che l'ho pagato capite bene che devo utilizzarlo mi devo impegnare ad utilizzarlo quindi lo metto di lato sempre poi un altro primer che chiuso mai utilizzato è questo qui della marca Beauty Blender questo io l'ho preso perché avevo acquistato perché ho acquistato scusate non avevo ho acquistato il fondotinta della Beauty Blender della marca Beauty Blender automaticamente ho preso anche il primer quindi da utilizzare assieme quindi non ho aperto il primer non ho aperto il fondotinta quindi quando li aprirò li utilizzerò entrambi e quindi poi vi farò sapere e quindi questo lo tengo un altro primer questo lo devo utilizzare assolutamente perché l'avevo aperto è di Kiko e si chiama Pop Revolution questo primer è quello tipo siliconico non mi ricordo di che marca era famosa vediamo le forbici che mi viene anche meglio ve lo faccio vedere ah è sigillato ah è sigillato addirittura però io mi ricordo di averlo aperto aspettate perché mi ricordo di averlo anche sbocciato no vabbè lo apro perché lo voglio utilizzare sinceramente ed è questo ed è oddio a che cosa assomiglia proprio ti liscia la pelle bellissimo questa sensazione mi piace lo devo provare assolutamente bello sì sì mi piace questo lo tengo assomiglia a uno che era uscito di una marca che adesso non mi sento nominare che aveva anche gli ombretti comunque questo lo tengo perché lo voglio provare poi andiamo avanti un altro uscito di recente è questo qui di essence che è il mousse primer ed è fatto in questa maniera vediamo se è lo stesso allora no quella è leggermente più liscia questa qui leggermente più liscia però sì liscia anche questo devo utilizzarlo e confrontarli per vedere se è un dupe affidabile questo qui di essence quindi questi sì mi piacciono li voglio utilizzare un altro che ho utilizzato tutta l'estate infatti c'è la tacchetta e questo lo metterò nel progetto smaltimento prodotti e questo qui di becca io ne ho un altro confezionato messo di lato perché questo è un primer illuminante mi piace tantissimo specialmente nel periodo estivo che non metto fondotinta o perlomeno non metto tantissime cose questo mi è piaciuto tantissimo ci sono pure uscita soltanto con questo mi piace mi piace come fa l'effetto sulla mia pelle sinceramente il backup lo volevo regalare ma me lo tengo di scorta è sigillato se per caso ho tantissimi prodotti e non riesco ad utilizzarlo è sempre sigillato quindi problemi non ce n'è ma questo mi sono trovata benissimo un altro prodotto che è ancora chiuso e non è stato utilizzato è questo qui della Dior questo è il Dior Universal della Backstage ovviamente ha 50 ml di prodotto dicono che è fantastico sulla pelle specialmente se hai una pelle agere e quindi ovviamente avendo anche un'età che sta avanzando piano piano che ridere automaticamente lo tengo perché poi Antonella Pagliano dice che è il migliore in assoluto nel senso che è buono eccetera eccetera gli suoi consigli li tengo ci tengo tantissimo quindi lo metto di lato e non vedo l'ora di utilizzarlo proprio con il suo fondotinta mettiamolo qui di lato poi abbiamo questi altri questo è quello di Catrice ed è un HD Active Performance Primer ed è waterproof e sweetproof e dice che minimizza i pori allora questo io non l'ho utilizzato lo volevo utilizzare in estate ma vi ripeto questi prodotti come questo come fondotinta, come correttori sono stati in stand by perché con la pandemia con il fatto che si esce poco non sono stati utilizzati cioè io non posso aprire un prodotto soltanto perché devo fare un video e poi lasciarlo lì visto che non esco così tanto automaticamente io cerco di lasciarli chiusi così mi do la possibilità di utilizzarli se fossero aperti devo muovermi per diciamo finirli e quindi questo lo terrò chiuso per poi aprirlo ovviamente e farvi anche una recensione perché se non mi sbaglio questi qui della Catrice come altri prodotti sono sempre in linea permanente qui ho un magello di cose perché ho tantissimi video da fare allora poi abbiamo questo qui di Wicon questo l'ho utilizzato quando ho fatto il video mi trucco con i prodotti Wicon se non mi sbaglio non so se poi l'ho pubblicato questo video è un primer con la pompetta e questo qui io l'ho utilizzato forse esclusivamente solo per fare quel video e poi non l'ho utilizzato più perché avendo aperto altri primer ho utilizzato gli altri invece adesso lo metterò dopo questo quindi appena finisco questo utilizzerò questo proprio per provare e vedere se mi piace se non mi piace lo cestino però io non ho proprio idea di come sia quindi questo lo tengo la stessa identica cosa ho fatto con questo perché questo qui l'ho acquistato per fare il video di Rare di Root Beauty questo qui ed è un primer per quanto riguarda il viso ma non mi ricordo com'era questo dicono che sia un dupe ecco si è suicidato nel liner un dupe di quello di Two Faced di Benefit scusate un dupe di Benefit del Pore Professional questo qui è quello che sto utilizzando in questo periodo infatti è quasi diciamo arrivato al termine quindi lo sto finendo era un campioncino o una full size forse un campioncino e di questo proprio guardando la mia collection ne ho altri e credo forse di regalarli o venderli perché come vedete ne ho un bel po' alcune mini size li tengo per spostamenti eccetera però sinceramente non me ne faccio niente di tutte queste mini 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 e quindi questo lo metterò assieme a questo e li utilizzerò proprio per capire se mi piace oppure no poi sono stata proprio brevissima proprio due cose ho tolto perché ho tolto due cose perché questi sono questo è sigillato e questi due se mi sbaglio li sto utilizzando questo è uno degli ultimi acquistati ed è un dei Vratation Plumping Fresh Primer quindi un primer idratante ottimo per la mia tipologia di pelle e dedicatrice quindi lo tengo e poi abbiamo questi due uno è di Revolution che è questo ed è un primer idratante quindi adatto alla mia tipologia di pelle e poi abbiamo questo qui sempre acquistato tramite consigli di Giulia Cova e mi sono trovata bene con questo infatti lei anche consigliava un primer per quanto riguarda gli occhi però di primer per quanto riguarda gli occhi che ce n'è uno solo e non mi ricordo nemmeno dove l'ho messo e prima voglio finire alcuni che ho già in uso e poi diciamo comprare anche questo qui visto che mi sono trovata bene con il suo primer quindi per quanto riguarda i primer sono questi sposto leggermente qua i primer diciamo che darò o venderò sono questi due al confronto di tutto il resto mi dispiace ma è questo che passa il governo andiamo avanti allora questi sono i sieri che io posseggo e ve la faccio breve perché per quanto riguarda i sieri è un caso a parte perché la maggior parte di questi sieri sono tutti chiusi perché io come avete visto anche forse tramite i primer non so quale video vedete prima o li unirò a tutti assieme non lo so ancora io cerco di aprire le cose piano piano perché mi voglio dare la possibilità avendoli acquistati con i miei soldini mi voglio dare la possibilità di utilizzarli quindi la maggior parte dei prodotti sono tutti chiusi sigillati e mai stati aperti questo è quello di Kiko la Holiday & James se mi sbaglio quella natalizia e non è mai stato aperto ed ha un effetto tipo olografico sul rosa che ha la stessa identica cosa questo qui di Nabla che si chiama Aura solo questa è leggermente più rosata ha una perlescenza più rosata invece questa ha una perlescenza più dorata tipo un rose gold ma che va sul bianco un pochettino invece questa è proprio più rosa proprio rosa non so se si vede in base all'effetto della boccettina quindi sono nuove non sono state aperte quindi li tengo ovviamente la stessa cosa vale per un altro prodotto di Kiko che è questo qui ed è della Precision Rituals questo non l'ho aperto assolutamente ed è un siero per quanto riguarda il viso ed è un Precision Rituals questo non è stato aperto quindi ovviamente lo metto di lato idem questo qui sempre di Kiko che è due in uno io questi li ho presi scusate non ero fu fuori fuoco questi io li ho presi tramite gli sconti che ci sono stati quindi li ho presi proprio per ultimi mi piacciono tantissimo perché ho visto lì sul diciamo al negozio come erano questi sieri ovviamente non l'ho aperto proprio perché li volevo utilizzare quindi cercherò di non aprire tanti prodotti idem questo qui di Colourpop non l'ho utilizzato perché volevo fare proprio un video fatto con tutti i prodotti di Colourpop perché ho una full face proprio pronta per Colourpop e quindi lo aprirò a breve quando riuscirò a fare questo video la stessa identica cosa è quello di Essence questo è uno degli ultimi acquistati ed è il Sensitive Face Serum Moisturizer e quindi anche questo lo aprirò a breve non crederete mai ai vostri occhi ho il Glow Oil questo è un olio assieme a questo qui che sono degli oli per quanto riguarda il viso e anche questi non li ho mai aperti quindi li metto di lato idem il siero questo qui per quanto riguarda gli occhi e il viso sempre di Kiko non è stato aperto e poi abbiamo queste tre boccette allora ne possedevo quattro ma una l'ho data a mia sorella allora questa è ancora sigillata ed è un siero skin conditioner siero quindi non è stata aperta quindi la metto di lato allora poi ho questi due che sono quelli che ho utilizzato di più questo è un siero che diciamo riduce le rughe le rughe di espressione le rughe che avete sul viso dice che le riduce io non ho visto tutte queste diciamo fattezze sul viso ma vedo che è abbastanza idratante quindi lo accetto per quello che è non ho visto tutta questa cosa che decantano le persone e poi c'è questo qui che invece è smoothing oddio com'era plumping quindi aspettate che mi faccio la traduzione ah scusate ma io ho la memoria di un criceto questo è un rimpolpante levigante ed è questo sono questi due quelli che io utilizzo che sono diciamo aperti e utilizzo quindi capite bene che avendo questi due non cerco di aprire le altre 700.000 cose che ho chiuse quindi per quanto riguarda i sieri questo è non ho non credo di dare niente perché ho quasi tutto sigillato grazie a tutti Grazie a tutti.